Ah, che rinascerà, in un fiore, ah, dice in un fiore, ah! Ragazzi oggi è uscito anche il nuovo romanzo di mia mamma che è bellissimo, super avvincente, dress code rosso sangue, lo potete trovare su Amazon cliccando qua, fatemi sapere cosa ne pensate. Amore, non ti lanciare. Love this look. No, non ti lanciare. No, non ti lanciare. No, non ti lanciare. Ciao Venezia! Grazie a tutti!